finalmente mi ritrovate in mezzo alla natura mi trovo in un posto un po particolare ma prima io sono passata da un piccolissimo borgo incastonato in una radura in mezzo ai boschi tra la val colvera la val tramontina e la val meduna è il borgo di pre plans in realtà non è un mistero perché lo vedete nel titolo del video che è un'architettura unica nel suo genere e che ha le sue origini tra fine seicento e inizio settecento con abitazioni realizzate in pietra e legno che sono materiali sì poveri ma che si trovano in abbondanza da queste parti il territorio è quello del comune di frisanco ma siamo comunque vicinissimi a meduno e cavasso peraltro con il sentiero che sto facendo io poi vi dirò qual è ci si può ricongiungere al percorso che avevo fatto tra i borghi di cavasso nuovo vi lascio il link quassù in modo tale che possiate dargli un'occhiatina ci troviamo alle porte del parco naturale delle dolomiti friulane e questo borgo è custodito da due archi in pietra che garantiscono la tranquillità e il silenzio che rappresentano l'essenza del vivere a ritmo lento e in armonia con la natura valorizzando quello che è il patrimonio storico e culturale che è stato che abbiamo ereditato ecco perché io non sto facendo il video parlato in paese per non disturbare appunto chi ci vive e che vuole stare in pace ovviamente senza avere la sottoscritta che gli parla sotto sotto casa in più vi do una piccola chicca io sono qui a novembre a metà novembre praticamente ma se passate di qui durante il periodo di natale il borgo si trasforma perché si arricchisce di una serie di presepi artigianali che appunto che trasformano questa piccola gemma nascosta in una con un'atmosfera ancora più magica ho seguito una piccolissima parte di quello che è il cammino di san cristoforo che passa da qui attraversando il borgo ho preso un sentiero che sale sulla destra ed è segnato appunto con i segnalini del cammino di san cristoforo in realtà lo sto percorrendo al contrario ma dettagli e sono arrivata fino a quello che è il crist di paludana che anche questo è segnalato adesso cercherò di capire se il sentiero che non è segnato sulle mappe che alla mia destra porta fuori da qualche parte nel senso che mi permette di chiudere tra molte virgolette questo minuscolo anello e poi vi porto in un altro posticino qui vicino che decisamente merita vi avevo promesso un bel posto ed sono qui appunto siamo a forse un 200 metri dal borgo stiamo tra virgolette rientrando verso quello che è l'abitato di meduno quindi verso tra virgolette la civiltà siamo in un luogo paradisiaco letteralmente creato dal fiume meduna dove regnano decisamente pace e natura questa qui è la spiaggia chiamiamola così di paludana e la chiamo spiaggia proprio perché qui nel miocene quindi oltre 5 milioni di anni fa c'era un mare tropicale del quale rimangono le impronte dei fossili dovrebbero essere visibili sulla parete diciamo che c'è di fronte a me in questo momento ma ovviamente c'è l'acqua e non posso raggiungerli ma fidatevi che ci sono questo qui è il posto perfetto per l'estate per staccare un pochino la spina rilassarsi e magari anche rinfrescarsi visto che l'acqua è bella fresca cercate appunto un'alternativa alle gettonatissime pozze smeraldine questo posto fa assolutamente per voi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate un bel like e se volete fatemi sapere cosa ne pensate di questo piccolo borgo e dei miei video in generale con un commento qui sotto vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure quindi non avreste dovuto aspettare il video per scoprire questo borgo e anche Paludana se volete sostenervi potete farlo gratuitamente iscrivendovi al canale e magari attivando anche la campanella per non perdervi tutti i miei video ma se volete sostenermi anche in maniera un pochino più diretta e concreta potete anche abbonarvi al canale meno di un caffè al mese e mi diciamo regalate mezzo litro di benzina o poco più per continuare con queste mie esplorazioni in giro per i friuli e non solo perché comunque spero di riuscire a portarvi anche un pochino in posti più lontani rispetto al friuli peraltro se vi abbonate avete un pochino di vantaggi comunque trovate tutto cliccando sul tasto abbonati qua sotto io direi quindi che approfitto della bella giornata e della spiaggia per rilassarmi una ventina di minuti noi ci vediamo al prossimo video e non mi resta che concludere dicendovi come al solito have a nice life a